Beh, è l'elenco della roba che gli serve. Che c'è mamma? Papà, torna a vivere da solo. Carita. Niente nonna, papà se ne aiuta. Vabbè, allora cosa faccio io? Aspetto. 2008, fuga da New York. Il vecchio jukebox. Collegato con la vittica tavoletta antirumore. Cazzo, funziona ancora? Che stronzata. Eccola qua. Oh, la mitica Java 350. Non le fanno più così. Meno male. Chissà se funziona. Wonderful, meraviglioso, stupendo. Adoro arredare grandi spazi. I grandi spazi disincantano questa armonia, questa strana architettura contemporanea dalle secche del movimento... Senti, 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 senti. E naturalmente lo spesso... Ma chi è questo qui? Numero uno. Una iperreale situazione in qualche punto focale, fatta naturalmente di volumi e controvolumi. Un assemblaggio di movimenti annissimi e... Senti adesso. E questo che le vuole? Mi ha letto nel pensiero. Adoro arredare questi grandi spazi. Vado nel mio studio a creare, a creare. Una pazza. Meno male che gli è piaciuto. Ah, perché c'era anche il rischio che non... Ma scherzi. Questo qui è il top dei top degli arredatori. Ricordati, il più caro di Milano. Guarda che è uno che sceglie. Ah, allora ce l'ho avuto culo. Questo ho voluto portartelo io direttamente. Di persona. Il resto della roba è in macchina. Ma questo qua è l'abito da sposa. Sì. No, Francesca si deve...